Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo primo episodio del X-Play dedicato a FIFA 19. Ovviamente benvenuti al primo tempo di Mira Leicester City nel trofeo delle stelle europee. Ho scelto un giocatore polacco, Christoph Piote, il pistolero. Questa partita la vorrei vincere a tutti i costi. Proviamo ad andare nell'area di rigore. Niente da fare, palla rubata. Riproviamo. Facciamo anche rubare la palla agli altri, non solo al giocatore che ho scelto. Caccio di punizione per il Leicester City. Purtroppo il X-Play dedicato a FIFA 19 non mi consiste a fare la videocronaca. Purtroppo il campionato di FIFA 17 ha ottenuto il successo, non so come dire, ma particolarmente scarso. E ho deciso di cambiare un po' e occuparmi generalmente di Let's Play. Questa volta si chiama l'X-Play carriera di FIFA 19. Come ho detto prima, io ho scelto Christoph Piote, l'attaccante polacco. Che lo chiamano pistolero perché dopo aver segnato fa finta di sparare. Proviamo a segnare. E niente. Anche questa volta abbiamo fallito. Proviamo a rubare il palla. Niente. L'arabito ha interrotto la partita. Andiamo. Fuori gioco. Fuori gioco. La prossima volta cercheremo di restare in gioco. Proviamo di nuovo a rubare palla. Fuori campo. Il Mila si è guadagnato una bella rimessa laterale. E speriamo di vincere questa partita. Niente. Abbiamo fatto una brutta chiamata. Sfortunatamente. Abbiamo provato a rubare palla ma speriamo di farcela. La passiamo. E niente. Troppo tardi per recuperarla. Proviamo a segnare. Purtroppo il portiere è riuscito a fare il miracolo per parare. Perfetto. Ci siamo guadagnati un'altra rimessa laterale. Proviamo a segnare. Anzi. No. Abbiamo fatto una brutta chiamata. Peccato. E niente. Pallone di nuovo perso. Ma per intercettarlo e recuperarlo bisogna solamente avere pazienza. Purtroppo. Di nuovo brutta chiamata. So che non solo a me può piacere vincere facile. A tutti piace vincere facile. Ma non può vincere sempre nella vita reale. Il calcio è così. O si vince. O si perde. E quindi. Unica cosa. È di farse una ragione se la squadra del cuore è perdita. Di nuovo pallone perso. Purtroppo abbiamo superato i 32 minuti senza violare la rete. E niente. Il primo tempo sarà così. Vabbè. Pazienza. Non importa. Avremo più fortuna nel secondo tempo. Di nuovo palla persa. Ma mancano pochi minuti. Alla fine del primo tempo. Dopo la fine del primo tempo. Tutti nei spogliatori. Ci riposiamo. Recuperiamo l'energia del tutto persa. Abbiamo provato a rubare palla. Perfetto. Proviamo a passare palla. E a liberarci prima della palla. Dobbiamo segnare. E niente. La difesa è riuscita a fargli un impatto. Caccio d'angolo. Speriamo bene ragazzi. E niente. Il pallone si è allontanato. Proviamo ancora. Mancano solo più due minuti. Dalla fine del primo. Anzi. Manca pochissimo. Proviamo a riprendere il pallone. Bene. Siamo quasi alla fine. Se questa puntata vi è piaciuta lasciate un like. Se volete iscrivetevi al canale. Io terminerei qui questa puntata. Io vi saluto. E vi do appuntamento. Al prossimo episodio. Restate sintonizzati. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.